Pare che ci siano stati degli disordini durante la notte in varie zone della capitale Sembra ci sia qualcosa che faccia infazzire le persone Amore mio, stai bene? Che stasso accidendo, ti prego di venuto Tu qui dentro sei al sicuro Qui dentro non entra neanche lo spirito santo L'abbazzo di tutti io Sei stata fantastica